Buongiorno a tutti qui su www.radioscience.it Oggi siamo in una location molto particolare perché stiamo trasmettendo dal May 2015 di Faerza come tutti sapete il meeting delle etichette indipendenti Qui con noi abbiamo ospiti oggi Massimo Mura e Massimo Mura Due omonimi, vuoi dirci qualcosa a proposito di questa omonimia che avete? Sì grazie, è un caso unico in Italia di due artisti omonimi con il stesso numero Massimo Mura e Massimo Mura Come vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti su Facebook È stata una cosa che è nata appunto così da una sua domanda che mi aveva chiesto appunto chi ero perché lui aveva un problema tecnico a registrare il suo nome perché il mio nome era già stato registrato con la CIA quindi ho dovuto cambiare a Max Mura come artista Da là insomma mi sono interessato anche ascoltare la sua musica perché lui è maestro di flamenco è direttore artistico della compagnia Mura di flamenco di Lecce e mi sono molto interessato anche a questo genere che non conoscevo tanto bene Sì, conoscevo poco diciamo Cosa suoni tu? Io suono principalmente il piano poi vabbè la chitarra e un po' qualche altro strumento E invece Max la chitarra quindi flamenco La chitarra classica è flamenco La cosa interessante è che comunque c'è un salto generazionale cioè a vent'anni quasi di differenza eppure vi siete ritrovati nella musica quindi stesso nome, due generazioni diverse però vi siete ritrovati nella musica è una bella cosa questa Esatto, volevo farvi parlare appunto anche lui magari voglio dire un passo su questo Buongiorno a tutti, sono Max Mura chitarista, compositore e anche un aspetto della mia carriera musicale meno conosciuto, autore, paroliere, associato siae Sono qui del terzo anno consecutivo al NEI dove ogni anno presento mie produzioni musicali quest'anno ho desiderato essere presente non con le mie composizioni di solista come gli altri anni ma insieme a Massimo il mio omonimo cantautore più giovane perché mi è piaciuta questa composizione The Bricks abbiamo realizzato con la sua etichetta indipendente The Lights, The Bricks adesso tra poco vi dirà i contenuti e non è un testo banale è un testo che ha anche un profondo significato umano abbiamo fatto anche un video su Youtube e tra l'altro il CD è reperibile anche su siti come CDbaby.com, iTunes e Google Play ecco, l'abbiamo inseguito a Faenza ieri e materialmente il CD è uscito appunto con i Bellinisia è uscito proprio ieri qui al MEI speriamo di divulgarlo nei negozi e già si può trovare presso la casa del disco in Corso Mazzini di Faenza più pochi metri più avanti abbiamo ieri suonato insomma in una location il Calicantus ecco, io ho voluto dare degli arrangiamenti musicali originali secondo il mio stile classico e flamenco a una musica lontana dal mio mondo quotidiano del flamenco pop inglese però mi sono divertito a dare questi arrangiamenti a fare una elaborazione, interpolazione con lo stile di Max Mura chi mi segue o anche insomma i miei fan coloro che vengono nei miei concerti in Puglia, precisamente a Lecce la mia città che è anche la sede della compagnia Mura di Flamenco Andaluso che io ho fondato e dirigo da nove anni fra un anno celebriremo il decimo anno e siamo presenti qui allo stand con uno stand qui alla May ecco adesso penso che sia il caso di parlare del testo del concept che c'è dietro questo CD che avete realizzato insieme quindi non so se vuoi parlarci ho visto che ci sono dei testi in inglese no? sì, io sono stato dieci anni in America per lavoro quindi ho avuto questa capacità appunto di domesticare bene l'inglese insomma ho cominciato a scrivere testi in inglese da qualche anno e prendo la musica un po' più seriamente quindi vado per nome artistico The Vine T-H-E-V-I-N-E ho composto ultimamente questo brano che ho fatto ascoltare appunto il mio collega che è piaciuto molto The Bricks e mi ha fatto appunto questo arrangiamento e adesso appunto abbiamo questo CD allora la prima traccia è il brano The Bricks di cui brevemente dico la storia è nato appunto da una una storia d'amore comunque di il significato è appunto i mattoni ok i mattoni per costruire per fare a qualsiasi costo insomma nella vita ci sono sempre come dire degli step ok dei tempi sì bisogna capire un po' qual è il primo passo da fare insomma dal costruire una casa o una piantare una pianta oppure una canzone oppure scrivere una canzone ci sono appunto questi mattoni tre virgolette quindi le canzoni comunque le scrivi tu sì e Marcia arrangia in stile flamenco no? sì io canto ho scritto il testo e lui ha fatto appunto la composizione flamenchista della chitarra avete già avuto dei riscontri positivi su questo disco? eh su sì su youtube appunto abbiamo fatto anche questo video un po' artigianale però comunque è piaciuto è avuto un buon riscontro fino adesso positivo appunto dalla gente e stiamo cercando di promuoverlo ancora di più quindi dove se io volessi acquistare il vostro cd dove lo posso acquistare? su che canali? beh siamo su tutti i canali comunque commerciali lì a livello web quindi da iTunes Amazon Google Play eccetera eccetera e li troviamo come Divine giusto? eh sì perché comunque il pezzo appunto è mio però appunto ha anche menzionato appunto mio omonimo artista come compositore musicale sì il titolo completo del brano è depositato registrato in SIAE The Bricks I Have a Dream contiene quindi un cd singolo contiene due tracce la seconda traccia ecco nella prima traccia e c'è proprio la canzone con la sua voce come cantautore e con un'introduzione soprattutto in un finale strumentale chitarristico stile classico flamenco mentre nella seconda traccia c'è una cover da me reinterpretata secondo il mio stile musicale sempre classico flamenco quindi solo strumentale la seconda traccia e il disco appunto come è scaricabile dai siti specializzati web come quelli che ha citato prima e volevo dire il titolo The Bricks la singolarità ma non l'abbiamo fatto apposta nel senso che io l'ho conosciuto dopo che lui ha composto The Bricks significa in italiano i mattoni quindi i due mura i mattoni insomma cerchiamo di costruire neanche fatto apposta allora qui abbiamo il disco lo faccio vedere qua in camera ok che è qua con questa copertina si vede bene ok qua dietro c'è il testo giusto se non sbaglio tra l'altro è una copertina molto colorata mi piace molto e voglio chiederti posso spiegare brevemente magari il significato appunto sono tanti cd messi su una su una tavola su una tavola di legno pitturata un po' significano appunto questi mattoni in forma di cd ok quindi la musica costruisce qualcosa no? esatto sì e I have a dream tu che sogni hai? il mio sogno in questo cd era di comunicare quello che sento dentro a più persone possibile e spero che sia un messaggio positivo che possa aiutare qualcuno ok sicuramente è un bellissimo intento prego un'ultima cosa anche se non c'entra con questo nostro disco oggi è San Francesco amato non solo dai cattolici ma in tutto il mondo perché si è fatto l'ultimo fra gli ultimi e quindi ha dato da secoli un messaggio di solidarietà di pace di fraternità a livello trasversale ricordiamo il grande incontro di Papa Uiti Uad Assisi perché sto dicendo questo perché io penso che la musica possa fare molto per i diritti umani e io mi sto impegnando da anni a porre brani strumentali stile classico qualche maestro di conservatorio mi ha definito un minimalista che è una corrente musicale la musica che esorga dai sentimenti e due anni fa il May ho presentato la mia suite Ultimi su cui sto continuando a lavorare per arrivare insomma a un'opera d'orchestra è proprio una suite sui diritti umani che pur essendo strumentale ha un significato profondo quindi lanciamo un messaggio veramente di pace di solidarietà di attenzione anche per gli ultimi per i più deboli ecco al di là delle singole produzioni musicali e soprattutto questo periodo storico c'è un bisogno è importante dare questi messaggi vado a farvi un'ultima domanda avete un programma delle date dei concerti stiamo cercando di renderci sempre più attivi perché è importante appunto esporsi il più possibile nella musica quindi se posso dare un consiglio magari anche altri cioè ci sono tantissimi canali cioè usarli tutti cioè se riesci a usare questi canali usali perché non si sa mai quale può essere il canale giusto avete una pagina facebook dove vi si può trovare sì abbiamo due pagine facebook comunque sono tutte e due collegate perché la mia appunto che è vine v-i-n-e sound che è quella della come artista e caso che ha discografico indipendente e poi la e poi la mia è massimo quindi non solo massimo ammura se no esce lui quindi massimo max ammura già facebook ci sono tutti gli ornamenti dove vengono annunciate già le mie produzioni future musicali sto lavorando ma non anticipo nulla magari una sorpresa andate su facebook delle cover strumentali di grandi appunto della musica italiana che sono state già annunciate non dico i nomi che sono troppo grossi ovviamente chiederò a loro all'anomativa sia l'autorizzazione quindi e poi trovate ovviamente il nostro brano su facebook il video su youtube e poi ho anche il mio gruppo fan max ammura come con il nome d'arte ecco io vi ringrazio perché dell'attenzione e voi siete un fenomenale veicolo di divulgazione di cultura musicale e le radio web tv come la vostra quindi mi siamo molto grati dell'attenzione che ci state dando volevo ringraziare anche l'esposizione per tutto grazie grazie a voi ci sentiamo ok ci sentiamo prossimamente su www.radiosciutes.it per altre interviste grazie a tutti grazie a tutti